C'è un po' di fibrillazione a Palazzo Cavallo in maggioranza, soprattutto tra Fratelli d'Italia e Lega. C'è stata una riunione, sembra tornata la tregua, siamo in compagnia di Lucia Tanti. Per prima cosa, che cosa è successo? Allora, mi permetto di correggere i verbi e parole. Non c'è, ma c'era semmai, e non è tornata la tregua, ma non è mai finita la pace. In realtà c'è stato un momento di confronto su una questione molto specifica, che mai ha messo in discussione il progetto di città, e quindi di fatto non si è mai parlato di verifica, ma semmai di necessità di trovare una quadra tra alcuni punti che erano stati messi in evidenza. Siccome il tema è la trasparenza che interessa a tutti, ieri ci siamo visti e abbiamo trovato la soluzione rispetto a un piccolo problema che era periferico rispetto al disegno di città. Quindi non c'era, ma c'è, non è una tregua, ma è una lunga pace. Però insomma, quello che abbiamo letto nei giornali, le dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali, facevano pensare altro? Eh, facevano pensare male, nel senso che quando si sta insieme e si condivide un progetto molto grande, possono esserci anche degli inciampi temporanei. Quello che ha interessato il Sindaco, me, ma soprattutto la maggioranza, era quella di mettere, come dire, in riflessione un punto che era legato alla trasparenza, che era una richiesta che la Lega ha legittimamente fatto e che il Sindaco inolterrà ai consiglieri comunali circa dei legittimi rapporti professionali tra consiglieri comunali attuali e alcune realtà partecipate, come può capitare. E questo è un punto di caduta importante, per il resto, ripeto, era più che una verifica, una necessità di ritarare alcune modalità di convivenza. Un po' un nodo focale, Estra e Coingas? Insieme a tante altre. Fra pochi giorni San Valentino tornerà l'amore? Non è mai passato l'amore, perché l'amore è il governo di questa città. Dopodiché, se ci sono alcune cose da chiarire, si chiariscono, noi abbiamo il vantaggio di farlo in maniera trasparente. Sono stati tutti concordi a mettere le carte sul tavolo e quindi parlare delle loro consulenze, delle loro collaborazioni in seno a questi due partecipati. Assolutamente sì, perché quando tutto verrà fuori molti rideranno per la poca valenza e per la necessità e l'accordo di dirselo con grande tranquillità.